SQL SQL. Come potete leggere le iniziali stanno per Strachar Query Language, linguaggio strutturato per l'interrogazione, sottinteso dai dati. Ovviamente per poter seguire con profitto la video lezione dovreste aver installato sul vostro PC un database capace di accettare comandi in SQL. Ho aperto ora il MySQL Front per esaminare insieme la struttura delle tabelle che dovremmo utilizzare. Il database l'ho chiamato Olimpiadi e prevede una tabella degli atleti con questi campi. Oltre agli atleti abbiamo la tabella delle discipline praticate da questi atleti. La tabella atleti e discipline collega gli atleti con le discipline, in una classica associazione molti a molti, N a M. E infatti i due campi più importanti che contiene sono atleta, che è la chiave esterna che individua un certo atleta, che pratica una certa disciplina. Disciplina è la colonna chiave esterna che appunto la rappresenta. Avrete forse notato che negli atleti abbiamo anche una seconda chiave esterna, la nazione. Fa riferimento ovviamente alla tabella delle nazioni. Caricate un po' di record di atleti e inserite a mano i codici delle rispettive nazioni. Gli ho scelti tutti a caso. Poi caricate anche alcune discipline e associate gli atleti con le discipline. Avendo l'accortezza di associare anche più di una disciplina per lo stesso atleta. L'atleta 12 pratica la disciplina 2, ma anche la disciplina 4, ma anche la disciplina 3. e in modo simmetrico di avere qualche disciplina praticata da atleti diversi, come ad esempio la disciplina 2, che è praticata sia dall'atleta 12 che dall'atleta 11 ed anche dall'atleta 10. ed aggiungete ovviamente anche qualche nazione. Durante le sperimentazioni è opportuno lasciare visibile sempre questo pannello in modo da avere sott'occhio l'elenco dei campi da utilizzare nei comandi. I comandi vengono scritti qua in questa sezione dei pannelli chiamata non a caso SQL Query. In questo pannello superiore vengono fisicamente scritti i comandi. Qua ne potete leggere uno che ho sperimentato prima e che ora cancello. Nel pannello inferiore invece appariranno i risultati nel caso il comando ne preveda. In questo pannello inferiore invece vedremo scorrere i comandi man mano che li avremo impartiti. Qui vedremo anche eventuali messaggi di errore o comunicazioni dal motore database. Come molti di voi probabilmente sapranno o dovrebbero sapere, parlando ai miei alunni, il linguaggio SQL riassume in sé le caratteristiche di tre distinte categorie di linguaggi per database. Come molti di voi sapranno o dovrebbero sapere, pensando ai miei alunni, il linguaggio SQL ormai riassume in sé più categorie che da un punto di vista logico devono essere tenute distinte, pensando ai linguaggi specifici per database. Adesso infatti prevede comandi di tipo DDL, Data Definition Language, cioè comandi per definire la struttura delle tabelle e delle associazioni che esistono tra queste ed eventuali vincoli di integrità. Di questa categoria noi vedremo il comando Create per creare la struttura di una tabella, il comando Drop per eliminare una tabella, il comando Alter per aggiungere o togliere campi da una tabella. Il DML, Data Manipulation Language, racchiude invece i comandi per la modifica, la manipolazione letteralmente dei dati contenuti in un database. Di questa categoria prenderemo in rassegna comandi come l'Insert per aggiungere record ad una tabella, il comando Delete per togliere e eliminare record da una tabella, il comando Update per aggiornare e modificare alcuni dei campi di un record di una tabella. Infine la categoria che poi ha reso famoso il linguaggio SQL, quelli che sono più strettamente connessi con l'interrogazione, Query Language, linguaggio di interrogazione. E qui l'istruzione principe è la Select. Questa potremmo estrarre dalle tabelle, congiungendo anche le informazioni che appartengono a diverse tabelle, le righe che rappresentano il risultato delle nostre interrogazioni, con tutti i criteri di ricerca che avremmo voluto impostare. Iniziamo allora con il comando Create per la creazione della struttura di una tabella. Qualcuno potrebbe obiettare che, avendo a disposizione uno strumento come il MySQL Front, che permette di creare in modo visuale la struttura delle tabelle, specificando in comode griglie di questo tipo l'elenco dei campi, i tipi dei campi e le altre informazioni, potrebbe obiettare, dicevo, che l'utilità di un comando come il Create sia abbastanza limitata. Ma in questo caso ci si dimenticherebbe che comunque ci vuole del tempo per impostare la struttura, anche in modo visuale, di molte tabelle. E se per qualche motivo il database dovesse andare in crash, o dovesse essere ricreato su un sistema diverso da quello sul quale è stato progettato, ad esempio passando da un sistema Windows a un sistema Linux, o a un sistema proprietario di altro tipo, il vantaggio di avere una sequenza di comandi in forma puramente testuale, che creano, a patto di avere un database con motore SQL, automaticamente la struttura di tutte le tabelle diventa invece un grosso vantaggio. Necessità di questo tipo sono all'ordine del giorno, quando dovete preparare database su server remoti del vostro provider internet. Infatti il provider potrebbe non fornire alcun supporto a livello di strumento visuale per creare la struttura database, ma si limiterebbe ad accettare un file di testo contenente appunto i comandi Create. Inoltre non è improbabile trovare situazioni in cui durante l'esecuzione di un qualche programma sia necessario creare da zero una nuova tabella. E di nuovo il modo più efficiente a questo punto per poterlo fare è attraverso il comando SQL, testuale, come quello che stiamo per studiare. Il comando Create vuole come primo parametro il nome della tabella. Poi si apre una parentesi e si elencano i campi che devono essere creati. Per ogni campo è possibile specificare un nome, un tipo e altri attributi. Ecco il comando che crea una nuova tabella chiamata Prova. L'elenco dei suoi campi è qua. Sono due. ID Prova, che è la chiave primaria, e descrizione, una stringa. Quindi una dopo l'altra si mettono le specifiche dei campi. Primo campo, virgola, secondo campo, virgola, e poi altre indicazioni. Chiaramente prima di che ID Prova non è un campo, ma è una specifica per il campo ID Prova. Per ogni campo dobbiamo indicare qual è il nome, ID Prova, e il tipo. I principali tipi sono int, interi, int, o char per i caratteri, o date per le date. Dopo il tipo del campo, possiamo anche specificare un'ampiezza. e anche in questo caso mi sembra aver già spiegato che relativamente a un campo INT, quell'ampiezza non deve essere inteso come un range, un intervallo entro il quale posso specificare quell'intero. Cioè, quel 3 non vuol dire che posso arrivare a 9, 9, 9. Vuol dire che se il campo ha come valore 12, andando in stampa o a video, il sistema aggiungerà automaticamente degli zeri che precedono il numero che non raggiunge l'ampiezza di 3. Dette in altre parole, invece di leggere a video 1, 2, 12, vedrò 0, 1, 2. Se avessi messo INT 10, avrebbe messo davanti al 12, 8, 0. Questo è il significato dell'ampiezza su un campo INT, che di per sé, in realtà fisicamente, andrà ad occupare nel database sempre lo stesso numero di byte individentemente da questo valore di ampiezza. Se il campo è o fa parte della chiave primaria, è necessario specificare anche l'attributo NOT NULL, cioè che non può essere lasciato senza valore durante il caricamento dei dati. Il secondo campo, descrizione, non dimenticatevi di questa virgola, è di tipo CHAR, cioè una stringa, e ha come dimensione massima 30 caratteri. Anche se nelle precedenti lezioni abbiamo già visto come esistono anche il tipo VAR CHAR, che non ha la controindicazione del riempimento automatico di spazi, come invece ha il campo CHAR, che di per sé amplia in automatico alla massima lunghezza il campo. virgola è sempre poi necessario specificare almeno la chiave primaria. Primary key è tra parentesi il nome del o dei campi separati da virgola che formano la chiave primaria. Nella maggior parte dei casi probabilmente utilizzerete chiave primarie costituite da un solo campo. La chiave primaria è ID PROVA. mando in esecuzione la query facendo clic su questo bottone ESECUTE. Perfetto, è normale avere come messaggio zero righe coinvolte nell'operazione e zero campi perché non abbiamo in effetti lavorato su singole righe ma abbiamo creato la struttura di una tabella. la conferma che tutto è andato bene è duplice qui abbiamo l'eco del programma appena eseguito senza messaggi d'errore tipo questo che ho ricevuto io prima. Inoltre andando qua nell'elenco delle tabelle selezionando il database è possibile poi aggiornare l'elenco con il tasto funzione F5 ed ecco che è apparsa la nuova tabella prova ora proverò a ricreare la tabella dopo averla cancellata aggiungendo qualche particolare intanto per poter dare il comando di cancellazione commento questa riga con due trattini e lo spazio che è importante il comando per eliminare una tabella è drop table e poi il nome della tabella prova punto e virgola e mando un'esecuzione andiamo ad aggiornare l'elenco clic su olimpiadi F5 riapriamo il dettaglio e la tabella prova è ovviamente sparita ora faccio il contrario commento il comando di cancellazione e riattivo la riga con il create con unique viene automaticamente costruito un indice che viene associato al campo descrizione in questo caso e in questo indice non saranno ammessi duplicati l'indice permetterà di reperire le informazioni in modo molto più rapido e poiché è un indice di tipo unico unique non consentirà l'inserimento di due record nella tabella prova con la stessa descrizione un indice di tipo unique non sarebbe invece molto adatto per un campo come il cognome le omonimie trovare cioè due persone con lo stesso cognome sono tutt'altro che rare in questo caso è necessario utilizzare un indice semplice cioè non unico e si fa così allora intanto notate che sto usando un'altra tabella per non andare in sovrapposizione con la prima l'ho chiamata prova 2 ho tolto l'attributo unique da descrizione e ho aggiunto questa specifica finale di nuovo notate la virgola può essere andato a capo index descrizione cioè costruisce un indice basato sul campo descrizione anche se gli indici portano un beneficio in termini di velocità di ricerca costringono a pagare un prezzo ogni volta che si inserisce o si cancella un nuovo record perché non deve essere aggiornata solo la tabella principale ma anche l'indice troppi indici potrebbero rendere veramente inutilizzabile il database per l'operazione di inserimento e cancellazione non c'è una regola precisa intanto indicizzate soltanto i campi su cui pensate che verranno fatte le ricerche e poi fate qualche simulazione utilizzando molti dati di prova potreste inserirli utilizzando un programma che genera dei valori in modo casuale ho cambiato di nuovo tabella prova 3 e inserito un nuovo tipo di campo sesso maschio femmina mf un carattere se per l'applicazione che state sviluppando sapete in anticipo che il più delle volte il valore da inserire sarà m perché è rivolta soprattutto ai maschi c'è la possibilità di definire un valore di default il valore di default m in questo caso è il valore che sarà proposto in automatico perciò anche senza compilare il campo sesso il valore inserito in automatico dal database sarà m è conveniente in quanto soltanto in una piccola parte dei casi saremmo costretti a modificarlo in f prima di provare questa nuova forma di creazione della tabella ricordatevi però di cancellare il riferimento alla descrizione al campo descrizione della tabella precedente quindi così creiamo fatto un solo campo di una tabella può avere anche un'altra proprietà quella dell'auto incremento auto sottolineato increment ovviamente la si può imporre solo un campo numerico e di solito è la chiave primaria in pratica con l'auto incremento ogni volta che chiederemo l'inserimento di un nuovo record il valore della chiave primaria sarà automaticamente incrementato di 1 e posto nel campo chiave primaria come accennavo prima in un fumetto la sintassi del comando create per SQL server è leggermente diversa vediamola prima però vi devo avvisare che il comando create è uno di quelli che non potrete usare da visual studio dove di solito vengono accettati i comandi meno impegnativi per la struttura dei database come il comando select o il comando insert o delete per poter provare i comandi DDL dovremo farlo dovrete farlo dal management studio se non sapete cos'è o non vi ricordate come funziona vi rimando alle lezioni precedenti di questa stessa playlist infatti se provassimo ad eseguire il comando di create lo vedete qui tra un po' vi spiego la sintassi otterrei questo errore piuttosto chiaro il costrutto o l'istruzione SQL create table non è supportato qui riproviamoci con il management studio ecco qua il nostro vecchio database prova per youtube clic destro nuova query incollo il comando lo proviamo e poi lo commentiamo attenzione però a non avere qua tabelle con lo stesso nome di quella che è stata per creare io ce l'avevo e l'ho cancellata ho anche tolto qua una parte del comando che non funzionerebbe in quanto fa riferimento a tabelle che ancora non sono state create quindi il comando create è questo lo eseguo facendo clic sul solito bottone con il punto esclamativo il comando è stato eseguito andiamo ad aggiornare la vista tabelle per ritrovare la nostra tabella dei clienti cosa cambia dunque rispetto alla sintassi di MySQL la prima parte in nulla int anche qua potrei mettere int tra parentesi 3 con la giusta interpretazione che vi ho spiegato prima primary key che è scritto in modo leggermente diverso cioè senza l'underline qui come in MySQL il not null lo ritroviamo nella stessa forma cambia il modo in cui si dice che la chiave primaria è in auto incremento d'altronde abbiamo già visto in modalità interattiva visuale che si andava nella sezione appunto dell'identità identity a specificare uno come valore di partenza e uno come incremento e beh si fa così non è complicato identity e tra parentesi i due valori quello di partenza e il passo di incremento ad ogni inserimento di nuovo cliente unique lo ritroviamo né più né meno come in MySQL e ne approfitto per accennare a un'altra clausola che possiamo aggiungere e devo dire si iscriverebbe allo stesso modo anche con MySQL il check è un controllo sulla valdità del valore che si sta tentando di inserire significa controlla assicura che sia vera la condizione che specifico tra parentesi tonde e cioè che cosa è un po' poi come vedremo come la parte delle condizioni che potremmo utilizzare nel comando select le condizioni assicurati che il valore del campo età sia tra between questi due valori 0 and 120 quindi accetterebbe anche 0 e anche il 120 compresi gli estremi il comando check può ovviamente essere ripetuto per più campi e anche più volte mi sembra di ricordare per lo stesso campo mi fermerai qui sul comando create e anche con la lezione ci sarebbe onestamente da dire che il comando create è molto più ricco di opzioni e di possibilità ma toccherebbe fare una playlist solo sul comando create e sarebbe veramente una pizza e tutto sommato non così direi un pochino controproducente intanto cominciamo a lavorare seriamente con le SQL poi ciascuno di voi a seconda delle problematicità che si troverà ad affrontare sarà capacissimo a quel punto di andare a approfondire in autonomia i comandi che gli serviranno alla prossima la prossima